no come no di bene bravo insomma le vondole come erano chiuse? forse bisognerebbe, basta subito una doccia no? no ma l'altro è pulita, si, ma io fa chiedere che di che, ma no, chiedi qua, tutti sono venuti un po' il ghettano, poi dice, fammi se una bella mangiata, così poi andrà a prendere un bicchiere con l'altro, guarda che si mangia un'altra volta, ma lei ha capito quando siamo andati a prendere, scusi, la frutta, ha capito, e beh si, sono arrivati tutti con il vasetto, con la macedonia, invece lei tranquillamente ha mangiato, certo che è di una natura un po' particolare, però è una donna molto sensibile, perché è sempre hai visto l'occhio dappertutto, guarda, guarda dappertutto, non gli scappa i neri, non gli scappa i neri, non gli scappa i neri, non gli scappa i neri,